Ciao a tutti, è uscita una live di Chiara dal titolo Quanta pazienza ci vuole e andiamo a scoprire a cosa, insomma, è dovuta questa pazienza. Intanto lei inizia la live cantando, evidentemente è felice, insomma, anche se si dice che l'uccello in gabbia non canta per amor, canta per rabbia, ma insomma diciamo che è felice, anche perché la si vede abbastanza serena. Ha una maglietta rossa, tendente al bordeaux direi più che rossa, una stampa sul petto che io non sono riuscita a capire cos'è, se voi, una faccia insomma, se voi avete capito cos'è, fatemelo sapere perché sono curiosa, ed è incipollata. E si inizia subito con i saluti. Lei chiedono subito perché non chiede i soldi a Giuseppe, quindi si parte subito con l'udienza, con il fatto del tribunale e quant'altro, e lei dice che non vuole i soldi ma giustizia perché non vuole essere preoccupata ad uscire di casa, dato le minacce che le sono state fatte. Io adesso non vorrei dire, però è passato più di un anno, credo, da quando è successo il fatto, insomma, che la vede protagonista nell'udienza, quindi nella denuncia e quant'altro, e a me sembra che, insomma, tutta questa paura di uscire lei comunque non l'abbia avuta, anche perché non credo che Giuseppe si sia fatto vivo nei suoi confronti in nessun modo, quindi tutta questa paura per la sua incolumità sinceramente non ne vedo il motivo, ecco, però, insomma, solo lei può sapere. Poi dice che non le interessano i soldi, appunto, ma essere tutelata, e non perché, lei dice, come ho sentito da qualcuno, loro non hanno soldi, perché li percepiscono entrambi, e probabilmente molto più di voi, hanno come cosa, e poi non si capisce più, praticamente dice che Giuseppe e la sua compagna probabilmente prendono più soldi di chi sta seguendo la live, o comunque di chi ha detto che sia Giuseppe che la sua compagna non percepiscono abbastanza denaro, diciamo, da poterla soddisfare per quanto riguarda un'eventuale richiesta, appunto, di danni, mettiamola in questa maniera. Lei dice che quanta pazienza ci vuole perché ci sono, riguardo al titolo, perché ci sono delle persone che commentano senza sapere, senza, insomma, sapere nulla della vicenda che lei sta vivendo, ad un certo punto qualcuno nella chat gli scrive se il suo amico maresciallo è anche giudice, e lei le risponde ti dà fastidio perché il giudice ha fatto una nuova audienza in tempi brevi, perché il pubblico ministero gli ha detto che era il caso di accorciare i tempi, quindi adesso sappiamo che non è tanto lei che ha chiesto al giudice, insomma, di fare la cosa in tempi brevi, ma è il pubblico ministero, come qualcuno aveva intuito, insomma, che ha fatto questa richiesta al giudice. Comunque, lei dice che la gente parla perché si vuole arrivare al punto che lei mostri, diciamo, i documenti dell'udienza o di quant'altro relativamente a questa vicenda, però dice che non lo farà, quindi non darà, diciamo, non darà vinta a chi critica, a chi parla di questa cosa, secondo lei, per vedere i documenti. Spiega che l'avvocato di Giuseppe non era d'ufficio ma privato, e lei, insomma, sono andati dal giudice di pace, allora spiega che questa prima udienza è stata davanti al giudice di pace, perché, appunto, nella prima fase si vuole vedere se è possibile una riconciliazione. Lei ha detto di no, che voleva andare avanti con la denuncia, e quindi lei ha detto, poi si andrà al tribunale quello grande. E io, quando ho detto questa cosa, mi sono immaginata che c'è un tribunale grande, in una parte dove c'è un giudice grande, insomma, che decide, e vicino, ho capito, un tribunale un po' più piccolo dove c'è il giudice di pace. Comunque, abbiamo capito tutti cosa intendeva dire, ma quando ha detto così, sinceramente, un po' mi ha fatto sorridere. Un utente le scrive in chat che, praticamente, Giuseppe e la sua compagna non sono venuti, diciamo, non sono andati all'udienza, perché è tutta fuffa, e quindi non si sono neanche scomodati ad andare. E a quel punto, praticamente, Luciana si risente, dice, guarda questa che ha scritto questa cavolata, nel frattempo questa persona è stata bannata, e lei dice, Chiara dice che non vuole assolutamente sapere cosa questa persona ha scritto, perché se è stata bannata significa che ha scritto una cavolata. Proprio mentre dice queste frasi, un altro utente, insomma un'altra persona, scrive, Per me Chiara è un'icona, lei ispira le persone ad amarsi indipendentemente dal peso. E a questo punto questa persona non viene bannata, e qui si capisce che si fanno due pesi e due misure. Chi dice che è tutta fuffa all'udienza, insomma, e quindi denigra un po' il fatto che è l'udienza per Chiara, non viene bannata, invece chi la idolatra, allora può restare. Naturalmente scherzo, è una battuta, insomma, se lei viene idolatrata perché è un'icona, o buon per lei, voglio dire. Però anche gli altri che avevano scritto, il loro pensiero alla fine, cioè, secondo me, poteva anche lasciarli, come dice lei, il pascolare. Anche perché, insomma, visto che si propone con questo viso sereno, con questi modi zen, insomma, alla fine, voglio dire, poteva anche dimostrarsi magnanima. Comunque, ancora una volta, rispiega che il giudice di pace deve conciliare le parti, e se non ci riesce, si sposta al tribunale, e quant'altro, insomma. Che si doveva fissare l'udienza a sei mesi, ma data la pericolosità, ancora una volta, cioè, questo qui mi sembra Hannibal Lecter, non so se avete presente Giuseppe, l'ho capito, cioè, pericolosissimo proprio, comunque. E dice che il pubblico ministero, che è dalla loro parte, cioè, quello che ha portato in giudizio, poi, Giuseppe e la compagna, è quello che poi ha visto, diciamo, tutta il caso, insomma, si è studiato il caso, e che quindi ha portato questo caso in tribunale, ha fissato a febbraio, e qui, insomma, si chiede, ma, insomma, a questo giudice, chi l'ha detto che a sei mesi erano troppi? L'ha detto Chiara? L'ha detto l'avvocato di Chiara? L'ha detto il pubblico ministero? Non che questa sia una cosa, diciamo, importantissima, per carità, però, insomma, quando si raccontano le cose, almeno, secondo il mio punto di vista, bisognerebbe essere abbastanza, visto che le racconti, insomma, raccontale bene, raccontale veritiere, raccontale, insomma, in modo poi che nessuno ti possa, non criticare, però, insomma, si possa porre, insomma, delle domande. A un certo punto comincia a parlare di film horror, dice che lei assolutamente non ha paura, e anzi che la rilassano. Questo perché? Perché lei aveva detto che prima di andare in udienza, insomma, dal giudice di pace, era un po' tesa, era un po' ansiosa, e per questo si era messo, non aveva dormito, insomma, e si era messa a giocare ai videogame. Al videogame, insomma, quello Resident Evil, qualcosa del genere, insomma, è che a lei i film d'orrore piacciono, che la rilassano, e che comunque, insomma, ognuno è fatto a suo modo, in modo diverso, appunto, a lei i film horror la rilassano, e ad esempio il marito si caca sotto per un gioco horror. Queste sono parole sue, ecco. A un certo punto entra la sua amica in live, e lei fa uno scuppone di quelli, Chiara fa uno scuppone di quelli pazzeschi, insomma, uno scuppone, uno scuppone. Dico, ma vediamo di che cosa si tratta finalmente, la chat si animerà un po', la chat, il video, insomma, la live, ecco. E lei che cosa fa vedere? Fa vedere il libro di Elisa True Crime, che al modico prezzo di 18,90 euro, perché lei quando fa vedere qualcosa ci tiene anche a dire il prezzo, io non ho capito se lo fa, insomma, per l'utenza, per dire all'utenza quanto costa, se vogliono magari comprarlo, o per far vedere che lei, insomma, per la cultura spende, io questo fatto non lo so, e insomma, dice che lo metterà nella famosa libreria, quella che ha acquistato, che poi parla di questa youtuber, dice che è bravissima, appunto, Elisa True Crime, consiglia il libro anche se non l'ha letto, insomma, dice che è bellissimo anche se lei non l'ha letto, dice che vuole contattare questa youtuber in privato per complimentarsi e vedere se riesce a farsi fare l'autografo al libro, niente, poi, insomma, parla del fatto che lei gioca alla Playstation, che probabilmente farà un gameplay come l'home tour, come la pesata, insomma, questo lo mettiamo, insomma, tra quelle cose che lei sicuramente farà, che non si, che sono comunque data da stabilirsi. Dice che è felice perché la madre, insomma, ha comprato diversi libri, ha ricominciato a leggere, perché pare che fosse una lettrice incallita e che quindi anche lei ha ricominciato a leggere, si è comprata tanti libri e niente, è felice di questo. Lei dice che da piccola leggeva, poi ha smesso, insomma, perché ha cominciato a leggere Dylan Dog, però sicuramente ricomincerà il primo libro, appunto, sarà quello di Elisa, True Crime, ma appena finito quello sicuramente ne comprerà altri, perché dice che leggere è bello, leggere fa bene, leggere arricchisce. Ora, io spero che lei sappia che leggere arricchisce non è proprio letteralmente, nel senso che leggere arricchisce la cultura, arricchisce la mente, arricchisce quant'altro, ma di soldi non ne porta, quindi Chiara vedi un attimino cosa pensavi quando dici arricchisce, perché insomma non vorrei che tu ti facessi delle illusioni. E niente, ovviamente scherzavo, meglio puntualizzare perché non si sa mai, e niente, la live finisce con un tocco un po' particolare, e cioè a inizio live un utente ha detto che sua moglie era bloccata sul canale di Chiara, al che lei subito, per carità subitissimo, Chiara dice va bene, allora vai sotto il video di Davide, quello dell'udienza, scrivi che sei bloccata, io ti sblocco subito. E questa poveraccia ci va e scrive praticamente. Lei non vede il nome, non legge il nome di questa utente, nel corso della live legge più volte insomma, se questa utente ha scritto o meno, ma questa utente per lei, per Chiara, non ha scritto. E quindi che cosa fa? A un certo punto si arrende e dice vabbè, non posso stare tutta la live a vedere se questa persona scrive o meno. Poi a fine live si ricorda che lei i messaggi sotto il video del marito li aveva avessi in revisione ed è per questo che lei non leggeva questa persona. e quando finalmente questa persona viene sbloccata e riesce a raggiungere la chat e quindi la live di Chiara e quindi la chat perché quello interessava magari per i saluti e quant'altro Chiara chiude e dà spazio al marito e buonanotte a tutti quanti. E insomma questa era la live di Chiara nei minimi termini. Io spero che insomma questo riassunto sia stato non di vostro gradimento insomma neanche io mi sono cosciente che non è che sono interessantissime queste cose però insomma che vi abbia quantomeno intrattenuto. Vi auguro una buona notte perché insomma siamo lì e un bacio a tutti e alla prossima ciao